Natale è quel periodo dell'anno in cui siamo più predisposti ad aprire il nostro cuore al prossimo. Noi lo faremo aprendo la nostra caserma attraverso l'esposizione del presepe agringentino del maestro Roberto Manadilla. Vi invito tutti a visitarlo e vi ricordo nell'occasione che noi siamo l'arma della gente. Siamo la vostra arma e vigileremo durante queste festività affinché per tutti possa essere un santo e sereno Natale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.